Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo l'unboxing di questa parrucca di Inner Bellezza. Lei si chiama Tessa, nel colore Silvery Moon. È una parrucca senza lace, c'è solo un monofilamento al vertice. Costruzione quindi abbastanza basica, questo è il colore. Un mix di grigi e biondi platino. La indosso, a me sta un pochino larga. Sulla parte superiore c'è del Permatiss. Ha preso la piega della scatola, quindi la vado a sistemare con un pochino di acqua ed un pochino di lacca, soprattutto per il ciuffo che mi va negli occhi. Parrucca estetica veramente ben fatta. Lunghezza media direi seno. Andiamo a vedere cos'altro c'era nella scatola. Un cerchietto, il wig cap e questa bustina. Mi hanno lasciato un foulard in simil raso, che io ovviamente provo subito. Non per forza deve essere usato sulla testa come un turban, ma anche solo come accessorio per il proprio outfit. Mi piace molto, mi piace tantissimo la trama orientale. Sorpresa top!